Si scrive Pascal, si legge il futuro, ultimo appuntamento con le giornate di orientamento nei corridoi dell'Istituto Tecnico Foggiano dedicate agli studenti delle scuole medie foggiane chiamati a vagliare il loro futuro scolastico. Domenica 29 gennaio dalle 9.30 le porte dell'Istituto di Via Napoli saranno aperte, fino alle 12.30 si svolgeranno mini-lezioni delle più importanti discipline di studio, amministrazione, finanze e marketing, informatica e telecomunicazioni. Accolte dal dirigente scolastico Giulia Rosa Trimboli, le famiglie potranno visitare tutte le strutture didattiche del Pascal, i laboratori di informatica, di fisica e chimica, la palestra, l'auditorium e le aule, tutte con lavagne interattive multimediali. Per questo abbiamo l'Open Day per informare le famiglie e i ragazzi in questo momento che sono alla vigilia di un'importante scelta di vita. Pertanto il Pascal vuole dare il suo contributo nel chiarire e dare informazioni perché sceglie bene chi ha maggiori informazioni. Innovazione, progresso, futuro e questo il linguaggio del Pascal. Nell'alternanza scuola-lavoro si stanno realizzando dei percorsi eccezionali perché il nostro intento è dare la possibilità al ragazzo con il diploma di spenderlo nel mercato del lavoro. E quindi abbiamo dei percorsi con aziende della Migastone della Repubblica di San Marino dove i ragazzi di terza A lavoreranno su una piattaforma per realizzare delle app. E quindi ci saranno app disponibili per tanti esercizi commerciali che vorranno convertirsi dal sito all'app. Altro percorso sono i ragazzi che vanno negli studi commercialisti dove abbiamo registrato un'attenzione fortissima da parte di questi professionisti nei confronti dei nostri ragazzi. Poi altri percorsi sono l'app che stiamo realizzando sul Gargano Turistica. Scaricano la nostra app ovunque si trovano, vieste, rodi o da altre parti sanno a che ora è aperto il museo, se è possibile visitare il museo, cosa è possibile fare nei paesi del nostro Gargano e la storia del nostro Gargano.